Forse ce ne dimentichiamo, ma in effetti la nostra diocesi non soltanto non serve, perché tutto il territorio cesano è disseminato nei ruoli del sacro. Lo scorso ottobre, soprattutto nel 2009, il nostro giornale ha dedicato anche un bel insetto proprio ai Capitelli e noi dobbiamo organizzare questo mio intervento citando quello che si chiedeva per il nostro capo medattore della cultura Lorenzo Bonazzo. Da tempo mai si va parlando di museo diffuso, intendendo con questo termine tutto quello spolverso di arte e di storia che è impossibile raccogliere in un sito e che la diffuse efficare. Museo diffuso nel Veneto sono le dille e le nuove storiche dalle volte ricostrate da freschi, le chiese e i santuari impreziositi da statue e tele ispirate ad una separità ufficiale condivisa. Ma ancora più diffusa, nebulizzata quasi nell'aria che si respira, è la presenza del sacro veicolata dalle piccole icone di cui è disseminato il territorio, legate a una devozione familiare e meno formalizzata. Questi segnali stradali che indicano il Cielo hanno assolto per secoli e arricani con diramità e rifassa che lo sguardo dell'uomo ha bisogno di guardare oltre per vedere meglio ciò che gli sta davanti e che Cristo, la Madonna e i Santi vivono accanto a noi. Ecco, cito queste riflessioni non soltanto perché le trovo scritte molto bene, vorrei dire con una profondità e una qualità di scrittura che sempre più raramente invece incontriamo nei quotidiani e in periodi ci sono fatti intonando comunità distante e notizie dell'Agenzia. Ma le cito anche perché mi pare che ci pongono di fronte la grande questione che è anche lo stesso religioso e culturale che anche questo libro prende esame regalandoci uno stesso davvero pregevole del nostro territorio. Vorrei innanzitutto dire che Monserice non è un caso. Lo scorso anno noi abbiamo recensito altre due ricerche a Napoli una dedicata al territorio dei Coriugani, una a Tiene e alla Pettimontana Vicentina e abbiamo riscontrato lo stesso dato, cioè questa presenza così capirale di segno e santo. Il fatto che oltre due i Veneto si continuino a costruire in modo i capitelli e si restrutturino quelli antichi, il fatto che attorno ai capitelli vediamo sorgere molte demozioni, Sandro Ponto, Padre Pio, Papa Giovanni Paolo II, il fatto che per molte comunità il capitello sia ancora un momento privilegiato di incontro in alcune festività dell'anno, tutto questo io credo che ci dica anche una cosa a cui già forse accennava, ovvero la secolarizzazione della società non è poi così compiuta come dovrete da pensare a guardare alcuni dati numerici. Ci troviamo, cioè, in un scenario dove dovrete diarli con dei dati, ma ne accenno probabilmente alcuni, estremamente particolari, nel senso che tutte le ricerche che vengono fatte come la frequenza alla vista domenicale oggi varie dal 20 al 30 per cento nel migliore dei casi delle nostre comunità. Tuttavia, una recente ricerca fatta dall'Osservatorio Sociale religioso del Trivento sulla Diogis di Venezia indica che otto emozioni su dieci affermano di essere cattolici, di credere in Dio, di pensare a Dio almeno una volta al giorno, di sentirlo presente e vicino. Se andiamo a vedere, poi, altri dati più concreti, da tanti decimono di valessi dell'insegnamento delle religioni da colore per scuola, al numero dei battesi, vediamo, cioè, come il caldo delle frequenze alla Messa o anche la partecipazione alla vita ecclesiale delle sue forme tradizionali non significhi davvero un destato dall'Empino. E credo che i capitelli siano proprio uno dei segni più interessanti di questa vitalità popolare tradizionale e questo desiderio, un bisogno eterno, di dare concretezza al desiderio umano di coscienza. Si regolano i capitelli, insomma, direi, perché il dialogo spontaneo tra l'uomo e il Dio, che che significa non è detto niente. C'è poi una questione culturale che anche in questo momento ben mostre che non possiamo assolutamente rascurare, non semplice a un patrimonio straordinario che in questi ultimi anni poi sta trovando la nuova vita. Penso allo splendido restauro di questa chiesa, penso all'operativa alimentazione della città muraria, penso al suo castello, anche se non viene la verità fatica, che è un articolo nasconde un certo scetticismo per un'operazione come quella dell'ascensore. Però, come in ottobre di questo libro, ce l'ho ricordato, c'è un patrimonio preziosissimo che conteggia la città e i suoi borghi e che anche quando non è di grande valore artistico è sempre di assoluto valore storico-culturale, perché è proprio attraverso queste piccole presenze che riusciamo individuali, e l'intiego che assente delle proprie rivoluzioni demografiche. Immaginare il Bello e il Procredo senza i Capitelli non sarebbe meno difficile che immaginarlo senza le sue gille o senza le sue chiese. La vastità del patrimonio è certamente un problema per la sua concentrazione, la sua catalogazione è un primo passo importante. Spero che questo possa seguire anche da piena valutazione. Penso ad esempio all'altro, è quasi concluso il mio intervento, delicatissimo capitolo che si riscontra nel nostro territorio che è quello che attiene alla violenza localistica. Noi ci troviamo sempre più spesso in condizioni in cui costruire nuovi quartieri, nuove strade, nuove rotonde, finisce per far considerare segni come i Capitelli in un uomo. Da cancellarle, che purtroppo molte volte capita, o da spostarvi da dove non diano fastidio. In questo però rischiamo di smarrire se non altro con la loro funzione civile, perché i Capitelli non credo che si possa dire che siano sorti a caso. I Capitelli sono indicatori preziosissimi di una persistenza secolare, di incroci di anni, eretti in luoghi vocati alla dimensione magica e religiosa a tempo stesso. Sono in altre parole parte integrante lì dove sono nati della campagna lenta e credo che dopo aver essenziale queste nostre terre di campanoni non possiamo cancellare questi monumenti della tradizione. Quindi la storia è direttamente l'opera di un gioco, che intenderà successivamente, magari volrà raccontarci in maniera un pochettino più dettagliata. Grazie. Grazie a Professor D'Amato, grazie per la sua pazienza, per il suo ruolo molto preciso. Ecco, adesso chiediamo l'intervento del professor Grato All'Anno, uno frattorico di Mose, dice che ha fatto un saggio di introduzione molto bello, molto ampio. Prego. Il Capitello, poi, è uno straordinario deposito di memorie. Memoria religiosa, abbiamo già sentito dire molto bene da questo punto di vista, è anche un deposito di memorie artistiche. E' vero, molti di questi Capitelli sono semplici, la loro realizzazione sono direi quasi fabbricati con le proprie mani. In Greta, quindi da questa architettura così poca, così indegnata, spesso e volentieri c'è anche la capacità di che realizzati, a livello, magari, abbastanza elementare, di dare degli armamenti, di fornire anche degli armamenti di carattere architettonico, riprendendo qualche modello, qualche suggestione, qualche suggerimento dei grandi palazzi, e se dovessimo, puntualmente, esaminare i Capitelli da questo punto di vista, credo che troveremo delle belle sorprese. E poi, soprattutto, per quanto mi riguarda, il Capitello è un deposito di memoria storica. Il Capitello, io ho cercato alla riproduzione di mettere in evidenza alcuni di questi aspetti, è un filo che si porta lontano e che si porta indietro di secoli, secoli, proprio di migliaia di anni. perché noi abbiamo concentrato una sensibilità diffusa e popolare per le tradizioni, per i comportamenti, per la visione del mondo che era anche dei nostri antenati, di quelli più lontani, di quelli che noi chiamiamo gli antenati della pre-historia. perché il desiderio di mettere a rapporto con la natura considerata evidentemente nella sua dimensione così anche religiosa, il desiderio di mettere a rapporto con queste identità che stavano, sì, percettive, che stavano a dirà sopra di quello che era così in livello di vita quotidiana, era una esigenza semplicissima anche nel passato lontano. E quindi si pensava che queste identità religiose potessero manifestarsi in maniera alle volte favorevole, alle volte sfavorevole, le dica in certi punti particolari, per esempio nell'incrocio delle strade. Ed ecco che su questi incroci fino ai tempi dei normali e di rotture, anche prima, si cominciarono a costruire i punti di riferimento, era chiamato complico questo luogo di incontro dei nostri quadriti, su cui possono andare le gente a non finire. La cosa che mi ha sorpreso è quando io ho cominciato ad interessare l'idea di molti anni fa, io con i ragazzi di scuola insegnando per più di 40 anni, quindi ho avuto la possibilità di incontrare qualcuno mi invitavo a fare delle esperienze di ricerca personale, perché ero convinto che il miglior insegnamento che potessi dare era quello di convincere i ragazzi di fare cose con il proprio male. Quando un ragazzo è capace di iscrivere con i giornali, cioè di lavorare, di sviluppare un integrale di ricerca, divento autonomo. Quello che ha raggiunto veramente era la tua vita giusta, a tirare di dire e di altre emozioni. E quando ho cominciato a cercare i ragazzi la storia di questi capiteli mi è venuto incontro parlo degli anni 70, quindi ormai di un secolo fa, mi è venuto incontro un materiale di straordinaria ricchezza, leggende, tradizioni, superstizioni, storie di streghe, di diavoli, di apparizioni, e tutto questo mondo era confinato così nella memoria di questi anziani che spesso si intervogliavano quasi di raccontare perché erano politiche che fossero cose ridicole, che fossero cose stupide, che fossero cose banali, invece era lì la sostanza vera della nostra tradizione profonda e questo filo che ci congiunge al passato e che ci porta e ci spinge verso il futuro. c'è questo desiderio di trascendenza, questo desiderio di incontro con il Divino. Quindi la memoria storica di un capitale è di una straordinaria importanza dal mio punto di vista. Io mi sono interessato anche dei Santi parlando prima delle Sette Chiese che parlava di un straordinario documento che abbiamo con queste intuigenze uniche molto da parte della visita delle Sette Chiese delle Sette Basiliche Romane. Ebbene, io quando mi sono interessato a questi Santi in particolare di San Servizio di San Martino mi sono chiesto constatando che ormai questi Santi non sono invocati. La Santa a cui è dedicato il loro prezzo è Santa Giustina io credo che c'è nessun capitale dedicato a Santa Giustina nessun nome si sono di titolare un capitale a San Servizio e mi sono chiesto qualche volta ma chi è stato l'ultimo che ha invocato questo Santo. Quando è sempre tutta la memoria di questi nostri Santi così antichi alle volte anche un po' leggendari o così avvolti nella rivoluzione del passato. San Servino è rimasto vivo fino a ieri nel quattro canto San Servino che non lo ricordo quando il ragazzo si poteva ancora frequentare adesso dove sorge la gradinata del buon rumore è stato confinato nella Luzia nella zona che va verso Mattiere dei Cantini ma credo che appunto anche se è stato indirizzato la via rispetto forse alla predizione che considerava un santo protettore almeno dal medioevo più di questo non c'è. e San Valentino San Valentino se noi andiamo il quattro canterario alla chiesa di San Giorgio e un signore che ha avuto un'esperienza un po' traumatica che ha avuto un'attività di persone i ragazzetti che volevano qualche parola su questo chiavente che doveva benedire e poi distribuire penso che il riciclino addirittura un numero straordinario questo segno che oggi è considerato uno strumento lì un elemento quasi un omaggio all'amore filiale oppure all'amore del fidanzato della fidanzata ma fino a ieri le mani lo legavano ancora dei loro figli per evitare la malattia difficolosa di San Valentino come dicevamo che ha detto che sia e c'era questa fede questa profonda desiderio comunque di salvaguardare anche la nostra salute non solo quella dei uomini anche quella dei animali appena andossi l'aiuto dei santi San Movo il protettore del mare sano di San Antonio naturalmente il nostro di Padua ma anche San Antonio che è vissuto nel deserto mili anni prima di San Antonio da Lisbona e quindi questa è una delle capaci di qualche cosa che ci potesse salvaguardare i pericoli e la vita quotidiana ancora oggi e ci riserva giorno dopo giorno e il nostro cammino ci fa sempre difficile ci fa le volte un cammino pieno di dubbi di dubbi interiori di difficoltà di rapportarci con le cose che ci stanno attorno ecco allora forse questo libretto è un altro libretto questo quaderno che ha voluto regalarci proprio uno gioco con i figli e soprattutto direi che grazie non è stato detto da nessuno ma io penso che deve produrre anche grazie a noi che ha sopportato pazientemente che sopporta pazientemente quelle che sono le manini che dovete e il marito e vi chiamo un grazie per essere regalato questo libro io lo chiamerei un saluto alla memoria che ha consegnato alla città che ha consegnato a tutti noi perché possiamo continuare a tenermi conto ad valorizzarlo e soprattutto sperando che possa servire così come stimolo di intensamento di meditazione e forse di un riflessione interiore di che abbiamo veramente bisogno grazie grazie per la vostra presenza per l'amministrazione che mi ha accettato in questa manifestazione e come ha detto il professor Orlando devo ringraziare la moglie che è stato un ottimo spot nella ricerca di capiteli da lì è nato un po' di giurore non è stato facile perché non c'è documentazione che parla di queste cose perciò pian pianino pian pianino pian pianino abbiamo dovuto cercare quasi casa per casa il capitale questo è tutto qua vi ringrazio della vostra presenza è un esercizio finale grazie 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 grazie